Arzer Grande, cercarla mi fa paura, potremmo mettere in pericolo la sua vita e quella di mia moglie e degli altri nostri tre figli. Le parole sono di Redouane Reaili, il padre di Meriem, la 21enne fuggita da casa per entrare nelle file dell'Isis. Siamo islamici ma sempre nel rispetto del paese in cui viviamo, l'Italia, continua Reaili, disperato, che attribuisce al proselitismo su internet le colpe della svolta jihadista della figlia scappata nel luglio del 2015. La famiglia di Meriem è distrutta dal dolore, la vicenda della figlia jihadista ha segnato le vite dei genitori dei fratelli che da anni vivono nel piccolo comune della bassa padovana. Il padre, dopo aver cercato un primo contatto con la figlia, ha desistito per paura di ritorsioni. Intanto dal Veneto potrebbe essere partita con Meriem un'altra giovane islamica originaria del Trevigiano.